buongiorno cazzo cazzo stavolta ce l'ho fatta a fare la transizione fatta bene ciao ciao ragazzi ciao eroi di irule come state come state per i pochi di voi che stanno giocando a zen mi spiace ragazzi ieri tra l'altro sondaggio era tipo un 90 per cento no ieri venerdì ieri era fra tutt'altro 89 per cento di persone cioè di voi che non hanno accesso a zelda come state ragazzi come va io sono un attimo appesantito che come al solito ho mangiato di fretta perché è così che va domenica domenica interessante no anche se non c'è andreina ragazzi volevo introdurre questo gioco qui che mi sembrava carino mi sembra carino da fare ovviamente c'è anche d'axi l'ho visto anche se è un po' preso in questo periodo storico e anche stasera probabilmente ma se riuscirà ci aiuterà se no sti cazzi chi se ne frega faremo un po' di scommessinera quello il senso perché questa modalità free lunch di hitman si presta molto bene alle scommesse poi appena entreremo in gioco spiegherò in breve che cazzo andremo a fare ma è una modalità randomica sempre diversa quindi alla fine dovrebbe non annoiarci ho la febbre mi spiace mi spiace per chiunque ebbe la febbre dato che alla fine ieri sembrava novembre oggi a milano è ritornato agosto incredibile si ivano tipo tre stagioni in una giornata qui a milano sta diventando una roba bellissima la febbre a me ho intenzione che parla domani lunedì ma domani lunedì esce bloodborne esce bloodborne ragazzi e non solo domani esce bloodborne alla solita ora esce anche uno screen di zelda quindi piatto ricco micifico domani su youtube avete bloodborne la mattina e dopo un po' avete anche lo screen di zelda quindi cioè di che cazzo stiamo parlando ragazzi di che cazzo stiamo parlando a perugia per il mondo ho visto tipo su internet dove cazzo è scesa quella grandinata apocalittica in che città d'italia quella grandinata apocalittica che tipo distrutto macchine ucciso persone per i prossimi 761 mesi solo zelda mi sa no ragazzi non penso allora io ovviamente lo sto giocando per i cavoli e me sono molto più avanti ma come era ovvio ragazzi penso solo che penso che lui farà solo le missioni principali come ho fatto io con Hogwarts Legacy perché se ci mette se si mette a fare anche le robe secondarie ragazzi facciamo 700 episodi cioè è impossibile è impossibile fare anche il live cioè bisognerebbe fare 12 ore al giorno di live per riuscire a vederlo tutto il gioco e alla fine ci sta anche fare una cosa un po' più piccolina su youtube anche perché è un gioco che alla fine immagino che molti di voi preferiranno giocarlo anche perché è un gioco che va giocato ragazzi infatti adesso ne parliamo ne parliamo innanzitutto saluto tutti quelli che sono sabati tutti voi che siete qui ovviamente saluto generico ma volevo parlare di Zelda ragazzi voglio due paroline su Zelda poi dopo iniziamo a giocare a Hitman allora ha fatto anche un video Dino oggi su Instagram non so se l'avete visto che lui ovviamente ha parlato della della sua esperienza per quanto riguarda la live e il piccolo screen che ha fatto quindi tre orette che tre orette comunque cioè ti fanno assaggiare un po' qualcosina io sono a dieci ore più o meno una decina d'ore una decina d'ore e non sapete quanto sia difficile per me perché sembra cioè parlare bene di una cosa è molto difficile a parlare male sono bravi tutti ma parlare bene senza esaltarsi senza essere prolissi senza continuare a ripetere le stesse cose è molto difficile per me quindi io faccio così vi dirò una piccola sessione di gioco che ho avuto una piccola situazione di gioco che ho avuto poi voi traete la vostra conclusione cammini per Hyrule no? cammini a cavallo dipende puoi andare oppure ti fai un razzo missile dipende come vuoi andare in giro per Hyrule con una macchina come vuoi con la moto con lo skateboard potete fare quello che volete in gioco state camminando in alto vedete il famoso arcipelago e su una di queste isole vedete delle nuvole che si addensano e dei fulmini cazzo voglio andare a controllare cosa faccio? salgo salgo con le rovine cerco una rovina intorno mandatelo il tempo salgo oppure mi costruisco un razzo cerco un cantiere e mi costruisco un razzo cavolo però non c'ho voglia di costruire ah guarda lì c'è una determinata struttura che mi può aiutare a salire tre avete già tre tre modi per salire salite sulle nuvole sulle isole cambiate mappa la mappa le mappe sono diverse ragazzi giù a Hyrule c'è un modo di esplorare un modo di combattere nemici quest personaggi diversi su c'hai nemici quest enigmi situazioni diverse arrivi sull'isola c'hai i fulmini i golem che ti attaccano devi difenderti perché c'è quel golem lì che c'ha un ventaglio che è randomico il golem affonde l'arma in modo randomico quel golem ha creato un ventaglio può spostare scusate può spostare il vento mentre ti pari il vento ti fa scendere ti fa cadere dalle isole cadi in caduta libera ritorni su Hyrule in un posto diverso da dove eri prima ma guarda lì c'è una grotta fammi entrare in quella grotta entri in quella grotta vai giù e c'hai un'altra mappa ancora perché nelle grotte sapete che le mappe sono tre si sapeva poi ce l'ha esplorata anche Vriai nella giovedì e una volta entrato nelle grotte nel sottosuolo c'è un altro modo di giocare altri nuovi nemici altri modi di esplorare tirare fuori la luce prendere la pozione per diventare ragazzi c'è da rimbambire c'è da rimbambire c'è da rimbambire io io come faccio a spiegare come faccio a dirvi quello che mi sta suscitando il gioco c'è da rimbambire ora parte io che mi esalto il gioco ovviamente avete visto il gioco migliore di sempre goti go at che vuol dire great of the all time il più grande di sempre i dieci che sono fioccati allora il gioco nessun gioco è perfetto il gioco i problemi c'è gli aga sugli si per omega e a bread of the wild appunto dal lato tecnico il frame rate è ballerino il difetto di questo gioco è la switch l'abbiamo sempre detto noi comunque siamo sempre stati critici lo sapete elder ring nonostante abbia meritato il gioco dell'anno l'abbiamo ammazzolato ragnarok nonostante sia stato un gioco bellissimo che ci ha emozionato abbiamo detto che è un bellissimo gioco capolavoro ragnarok però non ha la potenza di god of war 2018 sapete che noi diciamo quando c'è da criticare diciamo quando c'è da lo giro lo giro però io sinceramente un gioco del genere ragazzi è un gioco che non si è mai visto non si è mai visto io erano tanto tempo che dicevo quest'ultima generazione videoludica è un partita stanca sta un po' tirando sta un po' tirando il carro c'è manca manca qualcosa sono passati due anni due anni e mezzo da quando sono uscito PS5 e PS4 ragazzi il fulmine c'è il sereno che doveva cambiare un po' il mercato secondo me è arrivato non lo cambierà tutto ma questo Zelda Tears of Kingdom sarà praticamente quello che i giochi di avventura le avventure dinamiche cercheranno di prendere spunto nei prossimi 5 anni come minimo perché ragazzi siamo di fronte a una rivoluzione del genere non c'è mai stato un modo così fluido e bello di esplorare cioè potete fare letteralmente quello che volete vedete una roba in cielo vi costruite un razzo missile e la ragione cioè è difficile da spiegare parlare bene di spiegare di una cosa che ti è entrata dentro quindi ragazzi io spero che chiunque di voi riesca a una switch oppure può permetterci una switch può giocarlo lo deve fare perché almeno una volta va provato è un gioco che va provato io più di questo non posso dirvi perché poi è difficile anche non entrare nello spoiler ho sputato sullo schermo tra l'altro mi sono sputato in fronte e niente io poggio pistole distintive devo bere dell'acqua perché sono completamente sovrecitato la live finisce qui vado a giocare a Zelda sto scherzando sto scherzando sto scherzando ma poi a fine live a fine live faremo la tier list di utili Zelda vi dico un'ultima cosa poi iniziamo a giocare i bobblin c'era un accampamento di bobblin ma anche molto forti perché c'era un bobblin bello corazzato lo stavo giocando nel modo classico spada e scudo però mi uccidevano dopo la quinta volta che mi hanno ucciso cosa ho fatto c'era un cantiere lì vicino e c'era delle robe in tasca zone out mi sono costruito un cazzo di carro armato che sarebbero stati fieri di me nella seconda guerra mondiale lancio fiamme e cannoni ho sfondato tutto la campamento cioè ragazzi qual'altro gioco mi permette di fare una roba del genere adesso giochiamo adesso giochiamo allora sì ho fatto una strange epic ecco allora le cuffie ovviamente cazzo al pad è vero devo giocare col pad adesso vi spiego vi spiego bene in cosa consiste Hitman allora la il pad è qui fammi spostare ah è vero devo mettere il filtro il filtro tondo e poi vi triggerate se non metto il filtro tondo allora filtri là che fatica che fatica streamlab ciao ah è vero aspetta guardate guardate tra l'altro il mio salvaschermo sono poco preso dal gioco allora c'è la c'è la come mi chiede si chiama l'anello no non c'è l'anello fammi mettere l'anello la cornice è questa la cornice yes dovrebbe essere tutto a posto ma anche se qualora non lo fosse non me ne frega allora via con Hitman via la chat cosa devo cercare per averlo uguale questo qua è wallpaper engine su steam costa tipo 3 euro ve lo comprate ci avete la libreria di 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 robe di robe come si dice animate Siamo brondi siamo pronti allora è già nel carrello lol cosa wallpaper engine allora cosa cosa vuol dire mi mancano molte parole in questi giorni Hitman ragazzi Hitman 3 vabbè per chi lo conosce sa cos'è ma per chi non lo conoscesse anche se è avanti da 50 anni la saga è uno stealth ragazzi uno stealth dove siamo appunto un Hitman pelato purtroppo non con la barba dobbiamo uccidere dobbiamo fare gli Hitman ci danno un obiettivo da uccidere noi dobbiamo ucciderlo ma la cosa bella di questo gioco è la creatività perché non dobbiamo ucciderlo in modo canonico bisogna ingegnarsi per uccidere le persone questa è una modalità che hanno messo freelance è una modalità roguelike dove randomicamente nelle mappe del gioco ovviamente ditemi se si sente l'audio se si sente tutto nel porco giù dall'audio è altissimo però fatemi abbassare delle cuffie nelle mappe del gioco ti danno un obiettivo random con delle regole random con delle armi random e voi dovete ucciderlo adesso vi faccio vedere bene lo specifico cos'è e l'equipaggiamento lo trovi in modo randomico anche quello facendo più contratti guadagni soldi uccidendolo in un determinato modo tipo c'hai la missione la missione secondaria uccidi il bersaglio col veleno mille dollari in più e si fanno soldi poi con i soldi si possono comprare nuovi equipaggiamenti nuove armi nuovi vestiti e tutto tutto completamente libero ci ho giocato un po' da solo ma lo rinizieremo da capo perché va a come Isaac va a run c'è il permadeath dove si perde tutto nel caso dovessimo fallire ma cercheremo di non fallire infatti vedi ho fallito ho fallito la scorsa campagna ok allora qui abbiamo 47 appunto abbiamo 47 con con la sua faccia completamente morta dentro il rifugio ma ogni volta che si inizia c'è questa cassa qui che ti dà un attrezzo random randomico sono 3 allora ci ho dato un blocco da demolizione telecomandato un esplosivo diversivo audio telecomandato e fiala di veleno letale a me piace più la fiala di veleno letale sapete vai poi vedete la equipaggiamo ma noi se questa qua dovessimo portarla in missione usarla a morire la perderemmo quindi se magari non volete usarla ritornate qui e la stivate qui nel veleno letale perché per ora non sappiamo se ci può servire poi di qua ci sono le mie armi che ho trovato nelle mie scorse partite che ho messo tutte via però sinceramente preferisco le robe silenziate la fia ovviamente fia vedo che siamo sulla stessa lunghezza ora dobbiamo scegliere la campagna che ripeto è completamente randomica abbiamo varie varie associazioni abbiamo l'amoreale la lobby farmaceutica il traffico d'organi i giochetti perversi questi sono quelli tipo di di squid game i ricchi che fanno giochi perversi spionaggio industriale il traffico d'armi quelli che fanno guerra psicologica e i terroristi ecologici gli ecoreati quindi dovremmo scegliere una di queste ovviamente aprendola ci dice pure le prime tre mappe perché va sempre ogni campagna è dinamica più fai le prime tre più le prossime quattro saranno più difficili vedete qua in alto di scritto progressi campagna si vedono tutte le le campagne iniziali quelle iniziali appunto sono tre spero di essermi spiegato mi sono spiegato malissimo ma capirete solo giocando allora se non sbaglio in hitman c'è pure in questo hitman c'è pure l'italia perché in hitman 1 c'era la mappa dell'italia l'hanno messa pure qui quindi se c'è l'italia eccola qua sapienza italia che è una città fittizia della costiera amalfitana fatta molto bella la mia mappa devo dire la verità è molto bella abbiamo l'esca capo di una di una lobby farmaceutica modus superanti esperimenti sugli esseri umani e testi illegali dittatura sanitaria provocazione delle dipendenze per creare la domanda regolazione dei prezzi delle medicine con dinamiche lobbistiche forza brutta e la la storia non lo dico perché poi mi ammazzano anche a me dunque beh che priva la gran parte della gente della possibilità di curarsi cazzo mi ricorda qualcosa mi ricorda qualcosa ragazzi mi ricorda qualcosa napoli andiamo a napoli allora c'erano dubai new york e napoli sapienza italia facciamo la lobby farmaceutica si quindi abbiamo vabbè sapienza italia abbiamo due obiettivi guardate bersagli 2 abbiamo ci danno 1500 se li eliminiamo col veleno eh ci abbiamo il veleno giustamente le lobby quando ci fanno le lobby farmaceutiche che ti danno queste robe con i farmaci poi a new york ce n'abbiamo uno dovremmo farli tutti e tre ovviamente però ovviamente dobbiamo sceglierci il primo il primo con rigore io farei italia come primo il velen esatto devo fare italia come primo veleno veleno che se porti due vai andiamo con l'italia vai cercheremo di farcelo col veleno più o meno ci danno 1500 poi qua abbiamo le missioni secondarie incidente a tempo nascondino sinceramente non mi piacciono nessuna perché fucile a pompa non ce l'ho incidente è un bordello un bordello devi stare lì studiarti il giro che fa il bersaio fa chi cadere il riflettore in testa però ci guardate quanto cazzo danno per l'incidente nascondino a tempo non c'ho voglia sinceramente quindi facciamola senza missione secondaria prendiamo il veleno la let's go passaporto e si parte per Napoli andiamo a Napoli si funziona l'audio ragazzi funziona tutto ma si vabbè John Wick che si è basato sui tuoi hitman è una saga che va avanti da anni ragazzi famosissime ci hanno fatto anche un botto di film togliti l'orologio qua l'orologio c'è l'orologio ragazzi allora come vedete siamo in Italia perché c'è scritto regionale prima c'è scritto sul sul giornale c'è la gente che mi guarda male quindi siamo proprio in Italia allora io questa mappa me la ricordo nel gioco principale bisogna entrare in questa villa allora con R1 vediamo dove sono i bersagli sono due se non sbaglio allora minchia uno è qua uno è qua l'altro l'altro dove minchia eh non lo so ah quelli col pallino vuol dire che se li passo vicino mi riconoscono mi vedono come tipo sospetto mi segna che è lì ma non lo vedo non lo vedo con l'ultra istinto con l'occhio dell'aquila allora devo capire che giro fa quello là moda Italia salve guardate con che faccia da malvagio giustamente è un lobbyista allora bisogna bisogna essere creativi ragazzi perché nel caso in cui dovessimo vedere tra l'altro è uno serbino perché sta seguendo la tipa e nel caso in cui dovessimo vedere lui che mangia potremmo pensare o di avvenenare quello che sta mangiando di nascosto o mettergli qualcosa che gli prove chi la diarrea nel cibo così va in bagno così nel bagno siamo tranquilli la possiamo uscire tranquillamente però però allora è molto difficile perché è in campo aperto ragazzi cioè vedete qua è un luogo pubblico come cazzo facciamo ad ammazzarlo cioè dobbiamo un attimo capire che fare più che altro vorrei anche capire dove minchia è l'altro giù no la mapa mi dice là però elimina due membri va bene uccidi l'altro eh infatti volevo andare a vedere se l'altro era più fattibile ma non lo vedo ah è là beh 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 messo proprio in posizione messo proprio in posizione gelateria gelateria bella bella incredibile salve e dovrei salire al piano di sopra non posso vero devo vestire allora perché c'è anche un sistema di travestimenti in gioco in alcune zone possono entrare solo alcune type di persone quindi devo vestirmi come quel tipo di persona allora mi sembra più fattibile quello là sopra non c'è tipo una grondaia ah eccola la grondaia non mi vede nessuno di qua non posso salire di là scusa ah così guarda là bagno ok attraverso là allora fai traboccare vedete sono intrusioni intrusioni là sotto vuol dire che se mi beccano qui è finita qui lì ha il palino bianco appunto perché sono un intruso ma c'è solo lui sì allora posso accopparlo c'è pure un posto dove occultarlo allora piano piano zitti fermo fermo non andare via non andare via non andare via gli innocenti non vanno uccisi ovviamente quindi lo stordirò e basta ed era una guardia perché vedi allora mi travesto là e lo occulto così in caso in cui dovesse passare qualcuno di qua non lo trovo penso a svegliarsi in una scatola nudi allora dov'è il bersaglio sopra o sotto è spostato mi dice qua ma dov'è forse sarà su ma non lo vedo ok prenditi la candeggina dov'è la candeggina allora prendo la pistola che comunque fa comodo grazie in che tu sia ok qua non sono più non è più intrusione qua perfetto però il bersaglio si è spostato no ancora su ok devo trovare un modo per salire scale eccole ah mi ha ripreso una telecamera però è ancora verde perché appunto sono travestito meglio mi ha scambiato per una guardia del posto la telecamera allora qua c'è uno che mi conosce perché ha il puntino bianco cioè mi sa che non sono una vera guardia e la porta è chiusa porco giuda allora dovrò usare le maniere forti cazzo però ancora più sul bersaglio non ti girare non ti girare non ti girare bravo bella sta volta creativa salve tutto solo qui l'artista aspetta faccio un attimo meditare perché non posso aggredirlo se medita ma cosa vuol dire ma cosa vuol dire non c'è un coltello qualcosa lo farò a mani nude l'altro proverò ad avvelenarlo ragazzi se non riusciamo ad avvelenarlo proviamo al prossimo perché avvelenarlo allora con la fiala possiamo avvelenarlo solo tramite il cibo con la pistola a dardi lo puoi avvelenare anche da lontano quindi con la fiala dobbiamo farci andare bene sta cosa vai là è il primo andato povero hippie ma poi un hippie un hippie al solito delle lobby farmaceutiche ma di cosa stiamo parlando ci fessiamo da hippie là questa musica incredibile via ganja allora il primo è fatto dobbiamo fare l'altro adesso abbiamo una pistola potremmo fare potremmo fare una schioppettata in mezzo alla via siamo comunque in Italia deve essere da hippie potrebbe potrebbe essere veramente il colmo comunque torniamo giù cercando di non farci perquisire anche se abbiamo una pistola adesso guardate vedete questo travestimento lui non sa più cioè visto che non sono più una guardia lui non mi riconosce più probabilmente questo qua era uno che conosceva tutti i suoi colleghi e se ci avessi visto col travestimento da guardia ha detto ehi tu che cazzo sei non mi ricordo non mi ricordo di te quando quando ci hanno assunti una roba del genere capito quindi andiamo a farci l'altro salve sono un hippie il primo è uguale adesso sono un hippie era lord dei pelati c'era neanche un altro pelato famoso che cambia cambia vestito e professione ogni volta a seconda del video non so se o no il Giovanni Peccati lo conoscete Giovanni Peccati allora dov'è l'altro dov'è tornato lì bene allora prova a pedinarlo un attimo per capire che fare provo a pedinarlo un attimo ragazzi poi metti che mangia qualcosa potrebbe allenarlo salve sai che sta per morire lei ma vi devo capire perché perché sta dietro la statizia è uno cerbino secondo voi è uno cerbino per che giro fa che se avessi silenziatore mi metterei lei in alto gli sparerei con il silenziatore però la pistola non è silenziata l'ideale sarebbe stare vicino all'uscita della missione e tirargli un colpo in testa con la pistola e scappare però il problema è che se facciamo suonare gli allarmi questo qua si ripercuota anche nelle missioni dopo nelle missioni dopo visto che hanno fatto suonare l'allarme saranno in allerta quindi dobbiamo stare attenti ah ma mi saluta pure ci sto sbirciando mi saluta pure cazzo se avessimo avuto la bomba potevamo piazzarla qui sul motorino vedi con la bomba la piazzavamo qui sul motorino glielo facevamo saltare quando però ammazzavamo pure lì un innocente e ci doveva punti hello there using whatsapp vero vero allora là c'è un'uscita tra l'altro quindi noi teoricamente ah la nasconde via 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 guarda le guardie lì che non mi hanno ancora non mi hanno ancora visto anche se sto correndo con la pistola in mano via mi faccio passare arrivederla ma c'è un ciclista morto lì fatta omicidio all'italiana no è stato è stato non è stato un omicidio all'italiana ragazzi sarebbe stato bello prendere una moto andare via senza casco o no la va bene non siamo riusciti a farlo col veleno perché non c'era modo di farlo ok i primi i primi i primi obiettivi fatti ragazzi ci hanno pagato pochino però vabbè ci facevamo andare bene adesso Dubai o New York chi c'è infatti chi segue un IP cioè se vedi un IP correre chi cazzo lo rincon chi cazzo lo segue fatta allora la pistola che ci siamo portati fuori ce l'abbiamo qui tra l'altro e volendo potremmo forse però ce l'ho già no ok non ce l'ho e volendo ce la mettiamo qui là ora vediamo cosa ci hanno dato vediamo cosa ci hanno dato allora chiave inglese tutto fare che può servire anche non solo come arma per lanciarla può servire anche per per svitare robe per fare robe che fai con una chiave inglese la paperella esplosiva bellissima perché è un esplosivo ma se ti perquisiscono non la trovano qua invece abbiamo una siringa moderna di sedativo per addormentare eh la paperella non sarebbe male paperella esplosiva di prossimità vuol dire che chi si avvicina è tipo una mina chi si avvicina scoppia è molto pericolosa molto pericolosa va bene paperella allora abbiamo New York o Dubai scegliete poi Dax se ah ok l'hai già fatta partire l'altro scommesso però vabbè questo qua non facciamo il sondaggio dai scegliete scegliete tranquillamente scegliete tranquillamente Dubai dobbiamo fare tutte e due però Dubai andiamo a Dubai dai andiamo a Dubai un bersaglio là vediamo se qua c'è scritto tipo esplosivo danno collaterale c'è di precisione non ce l'ho per ora non ho ancora niente ci va sì non è male come non è male come modalità vabbè qua c'è un'altra di lusso perché gli obiettivi erano praticamente in mezzo alla strada quando dovremmo fare tipo la colombia che è tipo un enorme campo del cartello colombiano sarà molto molto più complesso siamo all'albergo vero questa mappa tra l'altro è fighissima qua ce la prendiamo proprio in modo creativo è là il bersaglio vedete tipo per l'incidente con una chiave inglese potevo fare questa cosa qui il famoso incidente se il bersaglio dovesse passare giù e noi gliela allentiamo dovrebbe caderle in testa e quello sarebbe un incidente che è il modo più sterile di farlo non vedo una minchia però posso dirlo poi in giro per la mappa ci sono anche delle casse dove possiamo trovare altri oggetti però sono sempre in posti un po' del culo tra l'altro ho iniziato ecco la la una cassa per esempio la sentite si sente il suono tipo di fortnite abbiamo già iniziato con l'intrusione se guardate giù la c'è un tecnico un tecnico che non ci farebbe male a coppare per prenderli i vestiti però c'è il collega che sta passando quindi ok no niente non so che vorrei cazzo potrei anche prendere lui cazzo ragazzi invitante però mi sa che mi vede allora andiamo dall'ingegnere qua sotto adesso c'è un'altra guardia tra l'altro oh ho sbagliato pensavo che mi rimettesse sulla sporgenza qua non posso fare un plunging tipo Ezio eh qua quale dura poi tra l'altro gli inizi delle missioni sono metto pausa perché non ci sa mai gli inizi delle missioni ragazzi sono randomici io quando ho giocato per i cavoli mei in questa mappa di Dubai avevo iniziato in stanza iniziare in stanza è molto più comodo perché chiama il servizio in camera arriva in cameriere lo accoppi gli freghi gli freghi il travestimento e poi andate in giro per l'albergo credo almeno c'è l'albergo non vorrei sbagliare forse era a Bangkok la mappa dell'albergo però ci sono altri tecnici anche qui ah quelli con la lì che vedete è un contrabbandiere se andiamo da quelli NPC potrebbe venderci delle armi però non abbiamo tanti soldini in questo momento abbiamo solo 500 non li vedete i soldi perché sono sotto la facecam allora uno è lì uno è lì minchia mi vedono matematico dovrei accoparne uno e prendere l'altro allora non ti girare tu ti prego ok ho il piede di porco quello si gira io sono sicuro che appena vado lì a distruzionare uno si gira questo gioco è matematica esatto esatto questo gioco è matematica qual è quello messo meglio secondo voi quello quello in ginocchio vero è quello un po' in bosch skate allora quello si stia spostando bene se appena spostato vado disattiva il generatore se disattivo il generatore forse creo aspetta ok a lui adesso lui farà il giro per venire a controllare e posso accoparlo vieni vieni non ti girare tu ma visto stai zitto stai ok non ce n'è accorto nessuno posso non ce n'è accorto nessuno meno male meno male meno male ah no siamo al museo si il museo di Dubai credo non lo so non mi ricordo tutte le map allora via beh dai non è stata non è stata pulita ragazzi ma l'importante è che non ci sgaminano si sa per affacciare la guardia si sa per affacciare la guardia ok non si è affacciata la guardia pensa che uno che si affaccia vede un pelato che sta spostando uno in mutande fatto 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 quella guardia però mi conosce cioè sa che non conosce gli addetti alla sicurezza allora qua c'è un altro roba del quadro elettrico cacciavite potrebbe essere utile eh la madonna che bello non l'ho visto non l'ho visto sotto allora il bersaglio è lì dite che posso avvicinarmi al bersaglio vestito così proviamoci cazzo lì c'è uno che sa beh potrei farmi i cazzi miei dimmi che non viene di qua viene di qua bene aspetta che mi faccio seguire mi faccio seguire com'è non like your face perché alla fine se gli insospettisco magari mi seguono ok cazzo c'è un altro qui però non sa chi sono aspetta vabbè sì vabbè vabbè lasciamo perdere più che altro non sapevo ci fosse il collega vabbè proviamo ad andare di qua ma che cazzo è tipo sì è il museo ah gli emiri gli emiri possiamo vestirci dai miro secondo voi queste feste del jet set ragazzi siamo sì siamo sui palazzi che stanno sopra il nuvole a dubai guardate il bush califa comunque sì c'è il vetro non vi preoccupate perché sennò sarebbero tutti risucchiati fuori allora in realtà è un bene che l'obiettivo sia in una zona un po' defilata dov'è l'ho perso l'ho perso dove minchia è minchia è così sopra ma la sua è così sopra salve ma lei ma lei è solo qui ah no non è solo ora è solo prendilo è 47 47 lui ovviamente è 47 non sta andando in modo pulito la cosa ma sto cercando sto riuscendo a non farmi sgamare ok uno è messo a posto tra l'altro sono svenuti non so manco no no adesso quello che si rinviene mi riconosce perché mi ha visto mi riconosce poverino aia ok a posto no aiuto quanti se ho fatto una stronzata allora ragazzi si stanno sparando tra di loro allora ragazzi allora ragazzi è sgamato dobbiamo capire che fare loro adesso sanno che uno il travestito della guardia ha fatto che cazzate però se noi ricambiamo un travestimento in teoria potremmo sgusciarcela saranno in allerta probabilmente il bersaglio verrà isolato ma possiamo ancora farcela leave the area infatti tanto gli lascio fare le loro troiate intanto bevo sono qui per te nella madonna ah proprio qua fuori si è messo il signorino lasciamoci che poveraccio quelli là non li svegliano svegliateli poveri ecco vedi la descrizione ok 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 ma è vestito come noi allora là c'erano il travestimento del dell'ingegnere del meccanico lì ok allora dobbiamo devono andarcene andatevene nascondina diventa andatevene quella rimane lì potrei riaccoparlo di nuovo stavolta gli spezzo il collo no intanto sono dentro con l'uomo nudo qui quello rimarrà lì il problema però sono i colleghi che i colleghi vedete stanno continuando a cercare in questo piano mentre giù l'allarme non è arrivato più che altro vorrei capire dove è andato l'obiettivo ok l'obiettivo è ancora lì quelli stanno scendendo le scale quello si sta spostando dai che forse sta tornando tutto come prima l'ideale sarebbe accoppare questo qui questa volta cercando di non farci scoprire nasconderlo qui insieme al collega questo qua e cambiarci d'abito allora vado 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 come nuovo salve hanno occupato qualcuno qui hanno occupato qualcuno io non c'entro cazzo ho sentito ho sentito che qualcuno ci state cercando qualcuno io sai chi cazzo è ragazzi trasformismo top allora andiamo a fare quello che andiamo andiamo a prenderci quello che è nostro ah qua ci guardate questo qua il posto vedete vedete quei nastri lì queste sono le telecamere se ma non mettiamo lì le telecamere spegniamo le telecamere sostanzialmente staff folly posso entrare beh sì faccio parte dello staff salve salve no non sono custode devo arrivare all'obiettivo però che è lì security room posso entrare no scusi 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 non lo sapevo scusi quello quello sa qui è dove ero prima sai che poi sono molto più vicino adesso che giù che sopra al bersaglio perché se io adesso salgo qui sulle inferiate attento a non farmi vedere da nessuno intrusione fa niente allora quello è girato non mi vede intrusione tra l'altro no perché venite sempre dove sono io il bersaglio è lì salve no scusi 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 non lo faccio più ah devo seguirlo va bene va bene ti seguo ti seguo vai mettilo KO là ok c'è un modo per occultarlo vedendo se c'è un modo per occultarlo perché se quello si gira lo vede no c'è l'acqua non è presente però in teoria adesso possiamo entrare qua e ce n'è solo uno quindi se noi accoppiamo lui e lo trasciniamo qui tra l'altro dorme lui voglio 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 accoparlo ok via adesso con calma dopo guardo cosa c'è nella cassa con calma prima voglio risolvere la questione minchia i tasti sto giocando a Zelda ovviamente i tasti della Nintendo hanno lo stesso lo stesso nome di quelli della Microsoft però sono invertiti un fastidio chiudi no ci sono i piedi davanti vai vedi vedete questa comunque molto 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 più complessa come come uccisione anche se solo uno allora chiave magnetica dell'attico questa la prendo assolutamente e tu vieni con me la la banana la lascio lì poveracci allora cos'è ah non ah non so vabbè minchia mille mille a bo mille quattrocenta a buffo così che so è una che la criptovaluta allora devo trovare il modo di salire adesso comunque con questo travestimento dovrei farcela ma è domanda è silenziato l'AK47 a me sembra silenziato potrebbe essere potrebbe essere la svolta è silenziato non so il nostro obiettivo è Elon Musk che si si stiamo andando stiamo andando a uccidere i potenti della terra la lobby farmaceutica allora quello mi riconosce mi ha capito dove sono le scale perché c'è cazzo c'è questo qui che è proprio messo in un punto un punto orribile c'è proprio dove dobbiamo passare noi però se io genero una fuoriuscita d'acqua lui viene vero lui viene e possiamo passare salto da lì potrei fare anche il giro vedi il giro lungo no non mi frega ah ok ha visto l'acqua ha visto l'acqua ha visto l'acqua l'acqua ci salva sempre la teleca era girata vabbè scendi scendi allora ce l'ho fatta bumbadumbadum bumbadumbadum va bene l'acqua ci riconosce quindi lasciamo perdere qui bagno eh i bagni sono sempre utili quello sta uscendo no sta uscendo no cazzo devo salire devo salire qua c'è il contrabbandiere forse da qua sai tanto la chiave magnetica ce l'ho e cosa vende roba però ovviamente fuori mercaminchia quanto mi piacerebbe quanto mi piacerebbe oppure anche anche una k così con 47 così oppure cioè una pistola silenziata qui sarebbe oro effettivamente però questo è ancora tanto allora la telecamera mi sta mandando a male quella ha asciugato l'acqua facciamo andare in posizione qua posso passare penthouse si 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 attico ok ci siamo stiamo facendo grandi progressi ragazzi allora 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 obiettivo ma c'è ancora più su incredibile lattico dell'attico ah salve poi ci saranno altre scale quello mi riconosce se mi tengo a distanza però magari no sto venendo proprio di qua minchia ma adesso che sono salito scende ma mi prende per il culo il gioco allora non sembra non sembra impossibile del cazzo stavo per stavo per sfilare una corsa e ucciderlo non so se si è visto nei miei occhi mi sta vedendo qualcun ok non mi sta più vedendo nessuno c'è la piazzetta il nostro obiettivo guardate incredibile salve si passa vicino a un bagno è fatta perché facciamo traboccare il lavandino bella 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 questa suite avelena bicchiere di whisky chi sa che lo beve probabilmente lui vabbè che la frego davanti alla faccia l'uovo di Fabergé dov'è mi è rimasto lì crea un po' di scompiglio crea un po' di scompiglio ma sapete che forse non mi vede nessuno ma guarda guarda come sbi guarda paracadute i paracadute perché giustamente negli attici di Dubai se prende fuoco il palazzo ha senso avrete i paracaduti negli attici perché sei quasi all'altezza aereo bellissimo tra l'altro ci sono veramente questi palazzi per quanto odi Dubai per quello che rappresenta come città incredibile sono arrivate le opere dell'uomo a fare veramente delle città sulle nuvole praticamente lui come NPC è la guardia del corpo del vero obiettivo di questa missione perché se fate la campagna principale il vero obiettivo è quello lì e lui è uno delle guardie del corpo vabbè sto facendo anche io la guardia del corpo insomma non vorrei farmi sgambio vorrei farlo pulito a sto giro il momento in cui è più isolato è quando è giù è giù lì anche adesso in realtà è isolato non è morto non è morto ora è morto no ma non la signorina no non posso morire non posso morire sono morto il rumore di Bloodborne tra l'altro questo è quando fai il perry in Bloodborne l'hanno gonfiato malamente e niente ragazzi può succedere può succedere volevo colpire la guardia no la signorina scusate vabbè abbiamo fallito ragazzi ci sta a fallire avete pure scommesso quindi però vabbè comunque l'abbiamo ucciso ci hanno ferito ma l'abbiamo ucciso in fronte è quello allora abbiamo sblocato il guardaroba ok musica classica possiamo mettere in rifugio con una sonora non ancora vabbè fa niente adesso la campagna continua perché comunque il bersaglio l'abbiamo ucciso ma c'è dato il malus credo almeno vediamo se possiamo continuare si possiamo ancora continuare andiamo a fare perché comunque l'abbiamo ucciso andiamo a fare New York ma che non concede così magari siamo usciti da Villain vai vai bianco gessato no dall'ex lutor vai stiamo usciti dall'ex lutor allora una cosa c'è andato chiave elettroniche questo qua la sostanza emetrica questo qua fa sboccare se lo mettiamo nel cibo di qualcuno lo costringiamo ad andare in bagno a farlo vomitare che in realtà non è male perché va in bagno si isola in bagno è entrata solo il bersaglio noi poi possiamo affogarlo nel bane il cesso tagliargli la gola spezzargli il colo quindi un buon emetico fa sempre comodo allora Dubai l'abbiamo fatto anche se ce l'ha fallita perché siamo morti abbiamo New York come funziona l'ultima 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 missione di una di una campagna funziona che territorio in allerta perché c'è l'altor malus funziona che dobbiamo capire qual è il capo dell'organizzazione guardate qua sappiamo che è a New York per un incontro per consegna fuma e beve molto l'aspetto è occhiali tatuaggio cappello cappelli rosci quindi ragazzi visto che beve molto potremmo avvelenarlo a sto giro eh sono pronto sono pronto sono molto pronto è vero non ho visto gli obiettivi prestigio perché se c'è avvelena lo prendo solo abito no 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 troppo 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 difficili gli obiettivi prestigio per ora via qua New York puoi entrare nella cassaforte per recuperare un botto di soldi sì sì lo sapevo l'ho visto su TikTok col video però bisogna fare un botto di bisogna fare proprio delle dei vari step per entrare nella cassaforte la banca allora c'è un iniziatore d'allerta cappelli rosci tatuaggio occhiali e cappello quindi beve tanto e fuma allora in realtà noi qualche sospetto ce l'abbiamo che sono quelle quelle vedete quelle sagome viola lì che sono i più i più sospetti dobbiamo dobbiamo capire qual è veramente con questo oggetto qua con questa fotocamera che abbiamo quindi posso salire va bene vado occhio alle telecamere non facciamoci riprendere troppo qua c'è la sicurezza restritted area allora sono tutti la sopra minchia sono tutti in zone un po' brutta brutta New York come mappa come ultima se la mappa la si conosce bisogna tenersi come ultima una mappa che si conosce tipo l'Italia come ultima sarebbe stata perfetta posso entrare? security check non ho niente non ho niente di illegale vai 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 vada vada cuore non si è perfetto per cui gire però stanno cercando di fregare grazie allora uno allora qua c'è il tizio che vende le armi nel bagno tra l'altro qualcuno qua sta sboccando o sbaglio? si ma non dirmelo così come un si c'è qualcuno che sta sboccando vabbè signorina peccato che le donne non può non possa occuparle per fregarle i vestiti ma non quel che credete voi perché cioè capiamo intendiamoci cioè mi è uscita male ma allora e sopra yes solo solo i dipendenti le dura le dura le dura eh si sta sboccando quella che è dentro da un secolo beh se non mi vede nessuno provo la però c'è quello lì molto vigile che è lì che mi sbircia allora employ holly mimetizzati posso mimetizzarmi se n'è andato via se n'è andato via via imbucchiamoci là andate un attimo a dare un occhio sul bersaglio wall street incredibile cazzo cazzo le dura le dura qua c'è un altro dimmi che scendi ti prego capelli rossi occhiali cappello allora sta fumando al chiuso ovviamente ha chiuso la porta bastarda non so se lei bisogna vedere se fuma no sbagliato non devo metterla come ok se fuma e se beve ma per ora non mi sembra che abbia fumato ne bevuto con l'altra lì tutte in posti improponibili comunque grazie al gioco la spio da qua paparazzo sta bevendo ragazzi sta bevendo potrebbe essere lei sta bevendo quel bicchiere quel bicchiere potrebbe potremmo avvelenarglielo andrebbe in bagno devo capirci se fuma allora per ora quindi lei lo capisce fuma ragazzi sta fumando secondo voi c'ha la bocca vicino c'ha la mano vicino alla bocca sta fumando secondo me ragazzi c'è un buon presentimento guardate la posizione da fumo cioè dai ha bevuto sta fumando ha la bocca ha la bocca vicino alla mano sì sì vabbè la stessa cosa ragazzi è una tossica sicuro si sta fumando è lei ragazzi quindi aspettiamo che torni di là così la posso mettere tra la oh come massima sospetta la dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare a quel bicchiere ragazzi dobbiamo avvelenarli quel bicchiere dobbiamo trovare un travestimento che ci consenta di arrivare lì ecco i due non mi sembrano male in realtà il problema è che qua c'è un via vai di gente quella sta tornando tra l'altro è il nostro obiettivo vedete va a bere potremmo farci la stelt ragazzi il bicchiere mi sembra molto isolato sì allora potrebbe essere un capolavoro se riusciamo a farci la stelt che dite provo a sgattaiolare e a mettere il veleno nel bicchiere aspettare che beva la sostanza le fa venire la nausea andrà in bagno la seguiamo 4-4 in bagno appena in bagno la ammazziamo sarebbe da da fuori classe eh io lo dico ci provo ragazzi ci provo vedete poi dopo lei si sposta e si mette qui di spalle allora facciamola andare via così fa il tragitto all'inverso che angoscia che angoscia vada vada signori cazzo c'è quella lì c'è quella lì si sposti quella lì in piedi la vedete veloce mamma mia mamma mia fermi tutti sta andando dimmi che dimmi che vai in un bagno raggiungibile se no se no è finita ok cazzo se vuoi dobbiamo prendere quella di veleno letale cazzo col veleno letale era già fatta ragazzi ecco adesso andrà in bagno ti prego dimmi che scende in bagno no no non può rovinare tutto quello lì no sta andando in un bagno completamente a caso zitti vabbè lui il poverino non cazzo non è qua il bagno non pensate a me non pensate a me no ovviamente non ci picchiano ragazzi fanculo via via non fatemi perdere tempo allora l'uscita è lì no non c'ho le chiavi porco giuda ah vediamo cosa c'è me la porto dietro comunque il dodo il il gran botto diversivo diversivo beh è fatta ragazzi non potevo non potevo non potevo farmi scappare questa opportunità di qua non c'è non c'è non c'è strada l'uscita please voglio andarmene quella là l'uscita principale principale via è un kiwi shish era un kiwi beh ragazzi anche se ho un po' tiltato alla fine è stato da manuale sto omicidio cioè dai faticherete a trovarne di migliori salve organizzazione sconfitta va bene lo stesso esatto gli ho tirato gli altri tanto che ha tirato un ceffone per farla svenire grande beh volendo puoi farlo il massacro ti equipaggi con un mitra e fai il massacro si può fare probabilmente è divertente farsela stelle ci sta avessi più armi lo proverai a fare il massacro ora siamo al secondo step della campagna abbiamo ovviamente la ricompensa perché abbiamo sconfittuto un'organizzazione ma ora si fa più difficile allora ci hanno dato la ricompensa col tellaccio col tellaccio col tellaccio che non voglio portarmi dietro perché dove lo posso vabbè top allora explosivo da sfondamento siringa antica emetica questa è una siringa che invece fa vomitare io non lo so forse è meglio l'esplosivo da sfondamento però serve solo per le porte ragazzi per qualcosa di chiuso mi prendo la siringa quindi siringa presa per ora la metto via è vero il veleno letale non ce l'avevo perché l'avevo perso nella missione di prima questo qua posso metterlo via questo coltello che non voglio portarmelo dietro ecco qua mettilo via in collezione proprio allora abbiamo un'altra organizzazione di cui occuparci o della quale occuparci abbiamo i giochi perversi organizzazioni di cerimonie occulti scontri mortale come divertimenti per persone ricche vendita di piani di vendetta personalizzati depravazioni e perversioni senza limiti mi ci rivedo guarda l'unica cosa che non sono di queste cose è ricco però la bomba è un capo di un'organizzazione di traffico d'armi abbiamo bangkok bellissima bangkok berlino dubai che l'abbiamo fatta e mumbai l'interprete spionaggio informazioni segreti con il mezzo necessario vabbè wikileaks è questa abbiamo thailandia colorado ambrose island e l'argentina se no abbiamo l'ape che sono organizzazioni specializzate in ecoreati abbiamo l'hokkaido bellissima la mappa dell'hokkaido in jap one e mumbai parigi e parigi la sua memoria come mappa perché è la mappa del primo hit storica del primo hit però io farei questa solo perché c'è il jap one l'organizzazione alba è il fan di io farei questa solo perché c'è il giappone ragazzi quindi allora farei una cosa a parigi me la terrei come ultima perché la conosco come mappa e inizierei col giappone quindi gli ecoreati dai sono gli ecologisti che imbrattano i monumenti sono loro allora eliminazione con trappola acqua noi farei questa e basta vai allora prima mappa faccio cazzo però l'hokkaido è l'unico in allerta minchia ci sono tre tre obiettivi parigi ne sono due ovviamente diventa sempre più difficile un vai due dai facciamo il giappone vai bellissimo l'hokkaido praticamente questa mappa qui è un ospedale un ospedale nascosto nelle montagne giapponesi dell'hokkaido per persone ricche dentro questo ospedale c'è di tutto c'è la sauna il sushi bar ci sono i robo che ti operano adesso vedrete è molto figo molto figo come mappa a tempo no allora per ora niente di arm di roba non ci portiamo niente una pistolina ci vogliamo portare per sicurezza non ci sa mai perché qua il gioco si fa duro poi c'è nel caso in cui dovessero vai andiamo andiamo jump one jump one ragazzi attizza attizza allora ci saranno pure ci saranno pure in allerta speriamo mi faccia iniziare in un punto che ci dia vantaggio ti prego gioco un punto dove siamo vantaggiati minchia il punto peggiore porco giuda il punto il punto peggiore dove iniziare allora tra l'altro c'è anche la katana anzi il tanto da raccogliere e che lo raccogliamo cos'è oggettivamente il punto peggiore però allora di qua ce la facciamo uscita poi siamo spavolati in un punto messi veramente male perché prima di tutto sono in allerta e poi qua sotto c'è anche una telecamera quindi dovete stare attenti là ce ne sono un paio qui sotto c'è la telecamera come veloce e niente e niente e niente non mi ha visto vero è vero ovvio che finisce così ragazzi vai è stragesia dove voglio il fucile dov'è aia nelle palle gli ho sparato e niente devo per forza fare così dentro dentro che insonorizzato ci stanno facendo i cazzi loro ovviamente sono innocente ucciso mi sparano gli innocenti uccisi ok ne arrivo un altro ola ola grana purtroppo ragazzi ci hanno fatto iniziare nel punto peggiore è impossibile di questo punto è impossibile da superare con l'allerta basta ritirata ritirata strategica ritirata proprio a tornarci dopo ragazzi campagna fallita riniziamo ragazzi paga pure che ho fallito Daxin purtroppo ragazzi non posso non posso farci niente non posso farci niente conta come una morte perché ben fallito cazzo l'ape l'ape è riuscita a sfuggirci peccato non era male come come mappa però c'è un po' di sfiga porco giuda e niente e niente spiazze esatto vi odio ho scommesso 10.000 punti eh 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 lo so quante volte me lo devi dire che sono un fallito ben allora vabbè siamo tornati con l'equipaggiamento quindi praticamente ritornare con l'equipaggiamento li fa tornare li fa tornare per la missione successiva anche se l'abbiamo fallita fiala di cloroformio azz azz decreditatore uso e getta bianca papera che non so che caso vabbè esplosivo pure questo però prendere la fiala no prendiamo la papera dai la papera almeno facciamo facciamo pure un'autobomba allora riniziamo tutto da capo sì riniziamo dalle prime tre giustamente essendo roguelike se si fallisce si rinizia da capo cavallo di troia traffico d'organi santa fortuna bellissimo dartmoor bellissima mappa isola di heaven non penso di averla mai fatta poi l'interprete abbiamo new york come prima colorado e l'isola di sgale il baratto abbiamo chonchon queen in cina berlino che è in una discoteca tra l'altro e willeton creek che è una è una cittadina di suburbia americana poi i repulisti capo di un'organizzazione di sicari voglio vorrei fare un'altra in italia mi piace tanto l'italia abbiamo argentina francia italia coppa del mondo facciamo questa l'esca sempre farm sempre le lobby farmaceutiche decidete voi volete fare l'italia ragazzi e volete fare l'italia l'italia andiamo a berlino si si italia porta bene va bene facciamo facciamo questa vai inizia la campagna sempre sempre la farmacia io direi di farcene sempre due volete fare parigi iniziamo con paris con parigi val bene una messa o con l'italia l'argentina la lasciamo come intermedia italia italia va bene rifacciamo rifacciamo sapienza facciamo facciamo sta autobomba in italia ne abbiamo avute poche di autobombe in italia allora a tempo solo abito travestimenti no non mi non mi sconfifferano qua ho già preso yes let's go andiamo in italia andiamo andiamo nella costiera amalfitana ma allora questa campagna è molto fattibile perché le prime tre sono facili a meno che non si facciano stronzate poi sono mappe ho scelto proprio mappe che conosco quasi tutte perché anche l'argentina alla fine un po' la conosco sapienza dai dammeli dammeli in un in un punto un po' più caldo dove minchia sei 46 allora usciamo da qui prima di tutto intrusione ma perché allora uno è qua in piazza in piazza proprio l'altro è a fare in culo questo qua morirà con l'autobomba probabilmente perché mi sembra quello più ecco vedi un bel maggiolone autobomba che dite via via valle del sole incredibile la valle degli steli la valle degli stereotipi la mole di stereotipi che sto vedendo stai tranquillo stai tranquillo la propria guardata incredibile incredibile come mi diverto cazzo cazzo dov'è l'altro vabbè ah minchia l'altro mi sa che è nel bunker allora adesso vi spiego l'altro bersaglio mi sa che è nel bunker che è un bunker scientifico che c'è sotto questa villa per entrare nella villa ci sono molteplici modi ma useremo il mio preferito ossia fregare i vestiti a questo cuoco qui che lavora la villa e come vedete questo dialogo è in ritardo quindi noi salendo da qui freghiamo gli abiti e entriamo da qua nella villa la paperella ragazzi è stata hard allora andiamo andiamo da Marce no non Marce come si chiama da Rocco Rocco si chiama Marcello è lo chef lui è l'aiuto chef allora andiamo andiamo ho ancora pensato ad andare la paperella pronto Amazon corriere Amazon apra un pacco per lei apra la allora scheda d'accesso pensate se Amazon un giorno fa questa entrata nella vostra villa nella vostra villa nella vostra casa allora qui abbiamo tutto prendiamo tutto tra l'altro qua c'è un bel easter egg è un gamer Rocco un gamer guardate la quantità di birre di sigarette con 50 pose ceneri c'ha non sta giocando a Zelda però peccato quindi per questo potrei romperti il collo per questo no 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 non lo faccio stavo per farlo un po' poverino non ce lo merita non ce lo merita allora dobbiamo ovviamente stare attenti alla sorella perché sua sorella sa che l'aiuto cuoco non siamo noi giustamente io spero ci sia nella villa dovrebbe esserlo proveremo a vedere solo i dipendenti là ok piano piano con galma anche se ci vedono le telecamere chi se ne frega questo penso sia un'opportunità con questa icona un'opportunità un'opportunità di soldi molto probabilmente però non ho un'idea non sapendo non tocco nulla si è palesemente sotto la villa quindi dovremmo trovare un modo per infiltrarci allora quello mi riconosce quindi stiamo attenti salve non sono chef comunque come mi trattano come mi trattano bene sono di famiglia qua bella sta casa la vorrei vorreste farcela anche voi con solo 200 euro potete anche voi entrare a far parte dei miei gruppi spero che faccio la pubblicità qui no però dovrei essere vestito elegante cazzo è incredibile come è vera sia vera sta cosa ogni volta che vai in Liguria o a Napoli o comunque nello Ion o nell'Adriatico c'è sempre una petroliera a largo della costa fateci caso infatti l'hanno messa anche qui e vabbè e vabbè Joe Bastianich sì 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 è la lore di Bastianich allora dobbiamo trovare modo per scendere nella cementerrate che poi non so se secondo voi è nel cementer villa villa cementer no questa qua nel laboratorio che il laboratorio è qua sotto è qua però no no la chiave magnetica c'è un modo per ottenerla adesso vi faccio vedere e quel modo è l'insegnante di golf eccolo qua vedi cazzo sono per accoparlo però ecco Francesca ma perché ci sono sti stereotipi sti stereotipi che non sono tutti figaioli gli italiani ma perché comunque il personaggio che cerca di circuire si chiama Francesca avete capito bene è proprio la ricetta da villa perché Francesca è tipo una scienziata che lavora giù quindi noi se ci travestiamo da lui la chiamiamo gli diciamo raggiungici Francesca ci raggiunge accoppiamo Francesca rubiamo il camice e la carta riusciamo ad arrivare al nostro obiettivo è l'unica ragazzi quindi dobbiamo farci il golfista qui ciao bella ciao bella sto cringiando in questo momento allora lui beve esatto lui beve da qui minchia dopo la distanza di 4 anni ancora mi ricordo se stronzate però le robe importanti non me le ricordo mai quindi se troviamo del veleno per topi che fa vomitare la gente e che lo mettiamo lì dentro lui va in bagno a vomitare lo accoppiamo gli freghiamo tutto tutto allora il veleno per topi se non sbaglio si trova qui che è? una difesa impenetrabile lavoro di squadra eccellente siamo in Italia ragazzi partite di calcio cosa ha detto? ma è un quindicenne che ma è un quindicenne che è una partita ma che è? leao attenzione è partito leao attenzione ma non fanno mai gol sto qui finché non fanno gol il porco è giù basta ah giustamente se spegno la radio in Italia ci sospettiscono nelle altre nelle altre nelle altre mappe se la accendi la radio qua se la spegni allora per i nobretopi se non sbaglio è qui ma mi sa che in freelance non c'è in freelance bisogna usare quello che hai quindi il golfista dobbiamo farcelo in qualche altro modo cazzo c'è ancora la katana di prima cazzo lui sa chi sono yes eh dobbiamo capire come entrare dobbiamo capire come entrare c'è bisogno c'è bisogno assolutamente di allora proviamo a entrare nella camera della scienziata allora la camera della scienziata salve 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 keep spamming keep cooking tra l'altro allora la camera della scienziate sapete sapete che non mi ricordo forse forse questo vediamo se c'è azzeccato si 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 le vedete infatti il golfista ha preparato tutto come ci deve ci sarà non è che non voglio sniffare le sue mutande voglio cercare un passo per il laboratorio fai traboccare ma se faccio traboccare cosa succede attiro qualcuno no ok ho attivato l'audio l'audio emozionale ok investigando la distrazione ed è quale dei tanti lui bene sta arrivando sta arrivando c'è di tutti c'è di tutti così che freghiamo salve ok chiudi guardate l'acqua come l'acqua come è animata bene visto allora mi travesto là e ti occulto però queste guardie qua non hanno l'accesso al al magazzino mannaggia ah scusate al laboratorio devo trovare un modo per accoppare il maestro di golf è l'unico però il problema è che non si smolla mai da lì la bottiglia era un modo easy per per farlo ma copyright copyright allora maestro di golf dov'è ah è lì che sta golfando giustamente no non è non l'ho preso di vista e minchia è andato no perché c'è in un un posto isolate allora fa veramente caldo avete ragione ragazzo potrei provare a scendere così però quello sa quello sa chi sono vero quello sa quello sa è dura ragazzi è dura però in realtà c'è un altro modo per entrare nel laboratorio ma è un modo molto rischioso ma ci proveremo non volevo farlo ma lo faremo proviamo a entrare dalla costa ah tuo fratello è svenuto non si preoccupi non si preoccupi sta bene ma c'è ancora no non c'è ancora non c'è non c'è il corpo di quella che abbiamo ucciso ragazzi perché i corpi li rimuovono se noi fossimo rimasti qui avremmo visto le guardie o comunque la polizia che lo metteva in una body bag e lo trascinava via guardate i segni del nostro capolavoro eh allora il modo per entrare è fare il giro qua del paese andare di qua salve c'è un sbaglio da qualche parte qui c'è l'entrata qui da qualche parte qua c'è il forte occhio che mi vede cazzo no ma serve sempre la chiave magnetica e niente e niente in realtà in realtà in realtà c'è un altro modo per entrare dove non serve la chiave magnetica però è impossibile ce mi beccano allora un po' un casino ragazzi anche perché ho perso di vista il golfista qua cazzo qua ci potrebbe rompere forse con una caricata demolizione quindi c'è ancora un altro modo per arrivare però io devo entrare devo entrare cioè non c'è altro modo devo entrare devo sfondare accento suggerimenti ovviamente perché sono completamente nel pallone allora qui possiamo entrare perché la chiave magnetica ce l'abbiamo dov'è trovare dov'è trovare dov'è trovare magari nelle stanze principale ci sarà da qualche parte dai allora metto a suo quadro la villa chin up chest out chin up che vuol dire petto in fuori mento in alto questi italiani qui posso salire al piano di sopra spero di sì hello dio si è girato all'ultimo si è girato all'ultimo porco di quel judo vabbè adesso girerà all'angolo non ci sono più un fantasma un fantasma usa l'ascia per rompere quel muro dite che funziona per me serve un esplosivo però dai allora provo a mettere adesso quadro la villa se non trovo niente proveremo l'ascia ok via oh bagno ho bisogno di una stanza ok stanza principale dai ci sarà da qualche parte qui è vero questa missione me la ricordo praticamente bisogna nella missione del gioco vero bisogna uccidere il proprietario della villa che appunto gli è morta la madre da poco qua si può inscenare appunto una roba paranormale perché questa era la camera della madre vedete con le cose perché appunto era invalida non mi ricordo mai come si chiamano non stampelle il girello e qua potevi inscenare appunto potevi suonare la campana e inscenare la madre morta lo facevi morire tipo di infarto è figa la creatività che ti porta a fare hitman allora la camera del figlio del proprietario della villa del del ticcio dove minchia e niente e niente e niente ispirapolvere allora qui oh yeah oh yeah si vedi il fantasma della madre ancora lui ce ne vada non ce ne va oh yeah mi è piaciuto quello oh yeah allora questa è la stanza della madre la stanza del figlio dov'è qui oh yeah sarà su non posso perché è tutto chiuso porco giuda qua mi conoscono tutti guarda eh niente eh niente eh niente eh niente allora proviamo con l'ascia dai proviamo con l'ascia se trovo le scale magari ma si le scale sono per i principianti no non posso voglio buttarmi eh niente cazzo cazzo le ardua le ardua le molto ardua ma deve smoke lei allora se non sbaglio lascio lascio ci arriviamo anche da qui no quindi rendiamo lì quando la telecamera mi sta riprendo 700 volte fa niente cazzo è difficile questa perché veramente ti mette in una in una posizione che da freelance cioè col freelancing col freelancing l'è brutta perché finché nel gioco principale devi scendere nel laboratorio quindi il gioco è costruito per farti scendere lì qui no qui no qui devi ingegnarti hey man hey man che vuol dire hey uomo vai uomo allora lascia dove era ragazzi qua nella galleria sotto i portici allora vespe 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 salve 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 allora grazie chiunque tu scia allora dove era lascia ragazzi era qua vicino se non sbaglio l'avevo vista anch'io e nessuno rispose in chat non non so dove lascia ragazzi se lo sapete ditemelo intanto cerco quello sa chi eccola la scienziata oh fermi svolta è francesca che ci fa qui perché è qui ragazzi fermi tutti è lei fammi capirci è lei sapete che penso di sì 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 ragazzi è lei è francesca ci sia che culo che culo grande grande ma ha visto qualcuno no quello là è talmente concentrato nella pesca che non mi ha visto bene francesca venga con me ma aspetta 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 no ha visto ha visto qualcosa ha visto qualcosa mi travesto senta sapete 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 perché fa ridere ma sapete perché tira i ceffoni alla Bud Spencer perché scientificamente provato anche molti militari lo fanno un ceffone benassestato sull'orecchio fa svenire quindi lui tira il ceffone benassestato sull'orecchio perché fa svenire sul colpo non sto scherzando alla signorina però c'è altro cattivo che ha tirato un pugno nello stomaco vabbè ragazzi è 47 è un agente geneticamente modificato per essere più forte e più resistente degli altri ovvio che ti stordisce con un ceffone via la area ostile ma noi entreremo allora il bersaglio è lì dobbiamo fregare un travestimento e già è già stato un grande un grande una grande vittoria riuscire a entrare potrebbe aiutarci questo questo qua se lo spengo qualcuno verrà qui a indagare e io da piano piano zitto zitto gli frego il fregabile i famosi fusibili ah bene lo scienziate venga scienziate vada scienziate bravo girati mi travesto adesso adesso torna indietro pelato adesso che passo davanti a quelli la mi dicono ma come è andato via con gli appelli torna indietro pelato infatti mi riconoscono vedete ah no non mi riconoscono perfetto salve salve sono andato a farmi una razziatina allora l'obiettivo è lì quello lo sa che non sono non sono io attenzione quello lo sa che che i pelati sono malvagi ok posso passare di qua scusi si si scusi 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 non faccio più minchia devo entrare lì però c'è quello lì che caga il cazzo lì vabbè zitto zitto non mi vede dai posso visto che so che torna qua dentro io entrerei già qua dentro però minchia quello lì mi riconosce figa un po' un casino fare un omicidio qua ma ci provo ragazzi cosa hanno trovato ah hanno trovato quello sulla scoliera ok adesso lo svegliano e mi dicono un pazzo mi ha preso a ceffone dai ci provo ma qua sanno tutti chi sono come minchia faccio ecco infatti mi ha visto hanno trovato pure il corpo dell'aria di francesca stanno trovando tutto stanno trovando devo sbrigarmi allora l'ideale sarebbe tirare fuori la pistola bang e scappare però non lo so ragazzi vorrei vorrei cercare di vedere se si può fare in un modo più elegante ecco il modo elegante in mezzo agli occhi in mezzo agli occhi e quando l'ho vista di fianco all'uscita ci ho provato mi è piaciuta mi è piaciuta mi è piaciuta un colpo sei un colpo un morto beh pulitissima questa pulitissima pulitissima ma what time is it sono le 23 passate precisissimo a fare a uccidere le persone e niente ragazzi questa qua era la domenica stealth appunto in sostituzione a quello che è progetto zonboid potrebbe anche diventare una serie fissa se vi piace se no al massimo faremo altro per domenica prossima grazie la chiudiamo la chiudiamo qui e adesso facciamo la tier list di zelda non andate via perché facciamo la classifica di tutti gli zelda da usciti oggi ad oggi quindi esco dal gueco camera principal la ok allora capire un attimo come metter beh ci sta non è ma ditemi cosa ne pensate di hitman come serata stealth appoggio hitman mi sono divertito fa ridere cioè fa ridere ragazzi anche perché i ceffoni i ceffoni che si tirano che si tirano lo lascio tondo perché tanto fra un po' switcheremo così almeno non sto a cambiare ma se vi piace la porterò la porterò anche domenica prossima e e facciamo facciamo quello che quello che dobbiamo vai andiamo su tier list aia allora t non mi va la t sulla metastiera tier list niente non va manco la l devo cambiarla perché da quando l'ho pulita con quella merda di roba di roba di qualche nazionalità che non voglio intende quella roba le cinese di wish che ho preso veramente meglio prenderla su amazon allora la zelda game allora accetta musiche di zelda all zelda game including spin off no beh game tier list the legend zelda games eccolo qui non ci sono tutti allora dovrebbero essere tutti forse forse manca tiers of kingdom ma in realtà non sarebbe giusto metterli in classifica già già adesso anche se sapete benissimo che cazzo ne penso io di tiers of kingdom però vabbè siamo ancora all'inizio i giochi vanno finiti prima di giudicarli ora la si vedete si si lo so che non vedete ragazzi lo so che non vedete stavo cercando stavo cercando la tier list prima di metter via tutto schermo le pubblicità qua posso chiudere ok non posso chiuderla questa ok non clicco iniziamo 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 come al solito per capire le locandine dovrò fare il control e più nuova doblo non mi interessa la nuova doblo allora links between between words che se non sbaglio è quello quello per game boy link between between words poi c'è vabbè into the past for for heroes che è quello per 3ds vabbè gli mette anche i remake però sinceramente poi c'è the links awakening ma c'è la smasco ok io direi di partire dal primo quello su 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 Nash il primo leggendario Zelda ragazzi il primo leggendario Zelda ovviamente sarà una classifica che si baserà sull'importanza l'importanza come posso dire l'importanza storica che ha avuto ovviamente un gioco che va preso nell'anno in cui è uscito ovvio che se lo giochi oggi il primo Zelda non è come giocarlo nell'86 acqua quindi nell'86 fu una rivoluzione perché fu il primo gioco a permettere i salvataggi non con password ma fu uno dei primi giochi a introdurre il salvataggio e questo è il bello di Zelda ogni gioco che esce introduce una meccanica che poi diventerà standard nel mondo videoludico a venire il primo Zelda è stato il primo gioco a introdurre i salvataggi perché è stata la prima cartuccia dorata tra l'altro ad avere dentro una batteria perché prima i giochi negli anni 80 i giochi si salvavano con le password voi arrivavate a quel arrivavate a quel livello per quel livello c'era la password per rigiocare da quel punto lì bisognava segnarsi la password e quello era il salvataggio il primo Zelda ha introdotto il salvataggio quindi me le ricordo le password minchia anche per i giochi freaking boy c'erano io il primo Zelda per l'importanza che ha avuto allora le S darò poche S perché sarebbero quasi tutti da S gli Zelda però qua al metro di giudizio cioè l'S che do a Zelda non può essere la stessa S che do a un gioco qualunque quindi il primo Zelda lo mettiamo in A perché comunque lo mettiamo in S il primo Zelda dai così almeno sto bene con me stesso il primo Zelda è in S poi vorrei farlo in ordine ma secondo me viene un verdaio a farlo in ordine allora Link's beating world se non sbaglio è il secondo e Zelda 2 no Zelda 2 è qua ok Zelda 2 che probabilmente è il più brutto degli Zelda Zelda 2 perché non so se per chi lo sa ovviamente era un beat em up era a scorrimento verticale come Castlevania Zelda 2 nonostante abbia introdotto cose importanti nell'immaginario collettivo della saga è un po' il più il più debole dei vecchi Zelda quindi io il Zelda 2 lo metto in B lo metto in B io comunque ovviamente li ho giocati tutti gli Zelda io gli Zelda li ho giocati tutti e tra l'altro si possono anche recuperare molto facilmente grazie all'abbonamento di Nintendo non tutti ma poi la Link to the Past che è Zelda 3 giudicherò ovviamente anche il remake che questo qua è il remake fatto su Game Boy su Game Boy Advance allora a Link to the Past ragazzi penso che sia penso che sia non volendo considerare l'importanza che hanno avuto gli altri ma Link to the Past probabilmente è lo Zelda vecchio più importante di tutti perché ha introdotto concetti come il mondo alternativo il Dark World la prima volta che compare la spada suprema per come la conosciamo è in A Link to the Past quindi io A Link to the Past lo metto per forza di cose in S in S per forza insieme a ovviamente il remake per Game Boy Advance che è praticamente lo stesso gioco riportato su Game Boy Advance poi tra l'altro se ti compravvi Game Boy Advance avevi insieme il multiplayer il vecchio multiplayer di Zelda che lo potevi giocare col cavo Link su Game Boy che avevi appunto controllavi 4 Zelda concetto ripreso poi anni dopo col 3DS 4 Link scusate che 4 Zelda è tardino poi Link between allora Link between worlds anche questo è importantissimo cazzo come gioco però 2S di fila mi sembra un po' troppo cosa ho fatto cosa ho fatto che minchia ho fatto che minchia ho combinato aspetta che rientro rientro porco giuda non vedo niente Premier League ma che cazzo c'è entrare Premier League stanno facendo Zelda Zelda Gamesh allora quale minchia era questa infatti c'è già allora Link Biting words 2S di fila mi sembra un po' troppo A la prima A A più dai un po' A un po' S A più A più si lo so che sono le 11 e mezza c'è un sito in quella pubblicità incredibile è incredibile no perché non c'ho Adblock io non uso Adblock perché visto che questo è il browser Chrome è il browser che uso per YouTube del canale se usassi Adblock sarebbe un casino per YouTube quindi non c'ho Adblock su Chrome questo è il risultato poi devo zoomare perché le locandine non me le ricordo questo è quello per 3DS che ho giocato no questo qua è uscito prima su Gamecube poi dopo l'hanno riproposto su 3DS o quello per 3DS o un altro non mi ricordo comunque Zelda è il 4 Heroes la delle 4 spade che poi era lo stesso che hanno riproposto in remake su Game Boy Advance il Force Word che appunto è un gioco che ha avuto un po' è stato un po' travagliato infatti per farlo con noi se ne è occupato un team molto 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 secondario infatti poi per farlo conoscere l'hanno messo insieme al remake di Alien to the Past ti facciamo il remake di uno Zelda super famoso e insieme ti mettiamo anche Force Word non è un brutto gioco ha il suo perché però è stato mal capito io lo metto in B in B C e D potremmo anche togliere per Zelda perché non ce n'è uno brutto cioè ragazzi ne potremmo stare a parlarne ma non ce n'è uno brutto allora Link's Awakening quello per Game Boy Link's Awakening che tra l'altro hanno fatto il remake recentemente quello similonirico molto parodistico quello dove Zelda è Zelda quello dove Link finisce nell'isola nell'isola come cazzo si chiamava l'isola dei Ciocco no dei Ciocco sono quelli di Final Fantasy l'isola vabbè un'isola comunque che faceva da Hyrule Alternativa e c'erano anche riferimenti a Super Mario il mio primo amore il tuo primo Link's Awakening il primo amore allora allora io Link's Awakening comunque non è male anche se uno Zelda un po' diverso dal solito ai tempi non fu capito perché non c'è Ganon non c'è non c'è non c'è la stessa storia di Zelda per come la la conosciamo Link un po' un cazzone ci sono tante battute molto molto sul comico parodia io però lo metto in A perché comunque è un gioco molto figo molto figo recuperato soprattutto il remake per me S no ragazzi S un po' troppo S un po' troppo se no allora li mettiamo tutti in S e finiamo la e finiamo la classifica ragazzi Majora's Mask dopo Ocarina of Time dopo Oracle of Ages e Oracle of Season che sono praticamente due giochi per Game Boy Color Oracle of Ages e Oracle of Season anche i colori dovrebbero ricordarvelo sono i giochi che la Nintendo ha creato dopo il grandissimo successo di Pokémon Blu e Rosso sostanzialmente sono più o meno lo stesso gioco ma Oracle of Ages è basato sul controllo del tempo più sull'esplorazione il controllo è più esplorativo più boss fight più dungeon crawler ci sono più dungeon più boss è più basato su quello Oracle of Season invece un po' più lento come gameplay è più basato sugli enigmi del controllo delle stagioni perché appunto in Oracle of Season si possono cambiare le stagioni a piacimento e questo si usa negli enigmi e la cosa carina che appunto la Nintendo ha voluto fare è sfruttare come per Pokémon il cavo Link argentato se si univano due Game Boy con due cartucce una di Oracle of Ages una di Oracle of Season si potevano scambiare i dati e fare un dungeon unico in entrambi i giochi praticamente per completarlo al 100% dove avere tutti i due i giochi e due Game Boy è uno con cui giocare è un cavo è un amico come erano i giochi come era come era criptico giocare insieme visto che sono praticamente interconnessi io li metterei in A tutti e due perché sono veramente di giochi molto attuali anche giocati oggi anche sono molto vecchi avrebbero bisogno di un remake secondo me tutti e due da come hanno fatto Prince Awakening perché sono veramente giochi veramente sottovalutati che in pochi si ricordano perché tutti si ricordano di Alien to the Past Toccarine of Time Majora's Mask Twilight Princess ma questi qua ragazzi cioè questi due tanta roba poi Phantom Hourglass bello Phantom Hourglass è quello per Nintendo DS è il primo per Nintendo DS Phantom Hourglass che riprendeva un po' il il link cartunoso di Wind Waker e appunto si ricollegava a Wind Waker Phantom Hourglass a me mi è piaciuto perché era veramente figo l'interazione che avevano dato con lo stilo praticamente essendo il primo Zelda uscito su Nintendo DS era tutto da giocare col pennino e la cosa figa è che magari entravi in un dungeon e ti potevi segnare tipo le robe sulla mappa te le potevi disegnare come tipo un avventuriere era veramente figa come meccanica a me è piaciuto un botto Phantom Hourglass anche perché Link Toon a me piace nonostante a tutti la deriva di Wind Waker e di Link cartunoso faccia cagare a me Phantom Hourglass piace e lo metto in A tutti A saranno probabilmente poi Spada Cielo HD Spada Cielo la versione islamica cheat quello per Wii originale che è stato che tra l'altro è lo Zelda il primo il primo cronologico cioè veramente la linea la linea temporale di Zelda è immensa Sky Wars World è il primo è il primo Link la prima Zelda infatti non c'è Ganon non c'è Ganondorf perché la maledizione non è ancora non è ancora stata creata infatti viene creata la fine di Sky Wars World questo qua è il primo vero Link perché Link è sempre dei Link il Link in ogni capitolo è sempre diverso l'unica cosa che rimane uguale in ogni capitolo è la spada suprema che è sempre la stessa Zelda Link Ganon Ganondorf vabbè Ganon è la calamità Ganondorf è la personificazione sono sempre le incarnazioni della stessa persona della Triforce sostanzialmente sono le tre facce della Triforce Ganon è la Triforce la forza è il potere della forza Zelda è il potere della saggezza Link è il potere del coraggio quindi non sono sempre lo stesso Link sono le incarnazioni sempre della stessa storia che avanti da più di 30 anni però Spadacielo io lo metto allora Spadacielo è stato odiato per i controlli di movimenti a livello di lore è importantissimo però effettivamente ragazzi parliamo anche di quello che era per Wii per Wii per giocarlo decentemente dovevi comprarti la periferica che ti potenziava il Nunchak perché se no la spada come il povero Shigeru Miyamoto che durante le tre sembrava un cretino io sinceramente Spadacielo HD lo metto in B che non è un brutto voto è B ci sta è un buon gioco però il classico di quegli Zelda era praticamente quando la serie era un po' in discesa stava un po' calando di qualità perché dopo Ocarina of Time dopo Toilet Princess era difficile fare di meglio quindi ottimo gioco ma non cioè non posso metterlo allo stesso livello di questi cioè bisogna non posso metterlo allo stesso livello di questi quattro quindi lo mettiamo in B lo mettiamo in B di buono esatto Spirit Trucks che è il continuo di Phantom Hourglass che è appunto anche questo su Nintendo DS Spirit Trucks nonostante fosse figa la la meccanica di costruirti binari di costruire binari di andare in giro col treno mi è piaciuto molto meno di Phantom Hourglass aveva meno mordente era molto più incasinato quel cazzo quel fottuto treno di merda ti fa snervare più che altro io Spirit Trucks lo metto anche questo in B bellissimo gioco ma non a livello di Phantom Hourglass poi Wind Waker minchia Wind Waker ragazzi Wind Waker lo odiano tutti perché è cartunoso ma c'è Wind Waker ragazzi c'è va fatto va fatto vediamo il trailer del trailer del remake del Wii U audio la musica la musica quanto era bello Dread quanto era bello Wind Waker dai minchia la sciorella di Link maledetta c'è dai è ingiustamente criticato non è Wind Waker poi c'era pure la Zelda più cazzuta di tutte la Zelda capitano pirata dove minchia si trova una Zelda capitano pirata invece di principessa poi c'è Red Rakar che penso sia uno dei personaggi la barca ovviamente che si chiama Red Rakar che penso sia uno dei personaggi insieme a Midna forse uno dei personaggi più belli mai creati in Wind Waker però Wind Waker è odiato Wind Waker se non sbaglio è del 2004-2005 per Gamecube è uscito ovviamente il remake per Wii U 50.000 volte se non sbaglio no è vero Wind Waker non si può giocare con l'abbonamento cazzo Nintendo per favore metti le console virtuali per tutti te li do 20 euro all'anno per l'abbonamento ma metti tutti i giochi rigiocabili perché avere solo i primi Zelda è un po' un peccato sto digerendo scusate Wind Waker è criticato perché è un po' diverso dal solito appunto il mare ovviamente essendo il mare la gente dice ma è vuoto grazie al cazzo sei nell'oceano cretino è quello il bello prendi la barchetta vedi un'isola in lontananza e te la vai a esplorare è proprio bello senti proprio il mare cazzo senti proprio il fresco la brezza marina il profumo del mare c'è sto gioco cazzo i pirati i tesori i pesci i mostri marini era stato criticato perché appunto l'esplorazione era un po' così che tu devi potenziarti la barca i quadranti di mappa per esplorarti bene e farti le rotte però c'è Wind Waker ce ne sono pochi di giochi che ha giochi così molti giochi attuali devono tanta Wind Waker e quindi lo metti in A lo metti in A perché Wind Waker è uno degli Zelda più belli infatti l'A se la merita pienamente in S ovviamente no perché non possiamo paragonarle a questi però è un A eccellente Wind Waker andrebbe anche per magari i detrattori della grafica cartoon perché infatti non li fanno più Link Toon è la versione di Link più odiata perché la gente non l'ha apprezzata più di tanto a me sinceramente piace Link Toon c'è il suo perché però vabbè ragazzi poi tra l'altro è anche la linea temporale più bella quella di Link Toon perché ci sono tre linee temporali all'inizio la linea temporale di Link Cartoon è la linea temporale dove l'eroe del tempo cioè il Link di Ocarina of Time fallisce e non si risveglia e infatti Irule viene sommersa da da una pioggia perché Link non si rincarna non arriva Link non arriva l'eroe l'eroe che predisce la spada suprema quindi la dea Ilia visto che non arriva Link a fermare Ganon come al solito fa sprofondare Irule nell'oceano ed è una delle timeline più belle non l'hanno preparata avanti perché la gente frigna perché Link toon non ci piace vabbè faccio solo quel cazzo che vogliono poi Triforce Heroes questo era quello per 3DS forse questo è quello che ho giocato meno perché l'ho comprato a un botto di problemi di server lo giocavo con i casual nel senso che non avevo nessuno con cui giocarci Forever Alone lo giocavo con il matchmaking che funzionava tipo una volta sì e dieci no ci sta è un classico un classico Zelda in cooperativa che però magari non ha il mordente degli altri però non è un brutto gioco anche questo lo metterei in B per i problemi che ci aveva di internet sarebbe da mettere in C perché era un gioco basato sull'online ma l'online non funzionava mai quindi io guarda per lasciare un messaggio lo metto in C perché effettivamente era snervante volevi farti una partitella di dieci minuti dovevi aspettare mezz'ora solo per connetterti poi è lui è lui ma certo che è lui è lui è lui Twilight Princess ragazzi il penso quello più discusso per molti questo sarà un S un S a mani basse Twilight Princess però eh eh Twilight Princess è da S no? ma adesso sarei disposto di fare una rubrica nerd sulle saghe importanti tipo Zelda l'avevo già fatta tipo due anni fa se andate su YouTube lo trovate che si chiama era tipo un video che avevo fatto sulla Naughty Dog eh mh per celebrare i tipo i 25 anni di Playstation i 27 anni di Playstation però sono veramente video che ci buttano fuori un botto di tempo eh registrare da fare non che non sia bello farli però ragazzi veramente veramente so che voi vedete dieci minuti di video dove dico delle cose ma non avete idea della mole di lavoro che c'è dietro un video del genere infatti io non so come cazzo facciano canali che si basano solo su queste cose qui ad avere del tempo per vivere però vabbè magari in un futuro ci potrà tranquillamente fare ovviamente non ne faccio non ne faccio uno al mese ma ogni tanto ci può tranquillamente fare quindi allora Twilight Princess molti di voi lo metterebbero qui io l'ho giocato Twilight Princess indubbiamente uno dei più belli ha un'atmosfera unica perché è quello più dace è l'inca adulto che farà farà bagnare molti molte femminucce ma anche molti maschietti per carità perché è l'inca adulto che si trasforma in un lupo cioè ve lo ricordate l'ovazione l'ovazione alle tre quando hanno fatto vedere l'inca adulto perché allora dovete vederla così le elevate Breath of the Wild e Minish Cap Zelda Zelda Ocarina of Time link piccolo adesso vi faccio proprio la lore volete un video dove vi parlo di storia dei videogiochi vi faccio proprio la lore di questi tre titoli Zelda Ocarina of Time ragazzi è da S forse anche sopra l'S perché è stato il mio primo Zelda è uno Zelda inarrivabile Ocarina of Time ha lanciato dei canoni nei videogiochi che usiamo tuttora tra cui il Lock On il famoso Lock l'ha introdotto Ocarina of Time la mappa dinamica il primo Zelda in 3D gli Zora l'Ocarina del Tempo ragazzi il fatto è che puoi viaggiare indietro nel tempo e giocare o con Link bambino o con Link adulto infatti dopo che è uscito questo signore qui tutti si facevano i segoni a due mani per Link adulto vogliamo Link adulto siamo cresciuti siamo cresciuti Link deve crescere con noi vabbè Majora's Mask Majora's Mask ovviamente si gioca con Link piccolo nella versione alternativa di Hyrule il più horror di tutti io Majora's Mask lo metto in Ness ovviamente Majora's Mask è il più horror di tutti col Villain più bello di tutti lo Skull Kid altro che Ganon lo Skull Kid con le maschere il fatto che il gioco il gioco è sempre negli stessi tre giorni tu devi ripercorrere l'infinito quegli tre giorni il fatto che si ha tempo ragazzi il fatto che sia a tempo questo vuol dire horror ti metteva l'ansia tu dovevi finire il dungeon il cazzo il dungeon di rocca di pietra che dovevi farlo a tempo perché se no la luna si schiantava sulla terra l'ansia che ti mette sto gioco gli urli dei già morti quando entravi nelle catacombe cioè ragazzi per un bambino per un bambino questo è il vero il vero horror quindi io Majora's Mask che l'In of Time li metto in Ash nulla da dire però in Majora's Mask si gioca ancora con Link bambino perché alla fine di Ocarina of Time Zelda vedendo il povero Link adulto che è rimasto ibernato nel tempo per questo l'eroe del tempo e si è perso gli anni migliori della sua vita Zelda cosa fa suona per l'ultima volta la canzone del tempo e rimanda a Link indietro nel tempo e lo fa ritornare bambino quindi visto che Majora's Mask è il continuo di Ocarina of Time si gioca con con Link bambino per quel motivo lì perché Zelda ha fatto un regalo a Link perché tutti dicono eh ma Zelda il Zelda non se lo caga mai Link perché non lo ama ma è un amore platonico quello fra Zelda e Link non è che devono bombare anche se sarebbe gradito dopo 33 anni però in Majora's Mask la gente cagava il cazzo perché è a tempo poi dopo Link non è vogliamo Link adulto è arrivato Twilight Princess ragazzi Twilight Princess il più oscuro di tutti con Link adulto con Midna con Link che diventa lupo io non so se molti di voi se lo ricordano l'ovazione che ha fatto la sala conferenze delle tre dopo che hanno fatto vedere Link adulto io penso che abbia su quell'urlo in decibel abbia superato l'urlo l'urlo The Champion che fanno negli stadi quando si gioca la Champions League però io allora Twilight Princess per alcune cose mi è piaciuto un po' anche a me però per questo motivo qui lo vedo sempre inferiore perché dovete considerarla come una trilogia Ocarina of Time Majora's Mask e Twilight Princess anche se non lo sono Twilight Princess è l'evoluzione fisiologica dei due però in confronto in confronto ai tre l'ho sempre visto un po' come l'accontentare una community che stavano profrignando non è che mi sia andata a genio sta cosa però effettivamente è un gioco indiscusso no non c'è neanche Age of Calamity è uno spin off ragazzi ci sono solo quelli principali ovviamente non c'è manco Tears of Kingdom perché è uscito ieri cazzo io Twilight Princess ovviamente lo mattinesse perché mettere in A sarebbe un sarebbe un insulto però io ho sempre preferito Carina e Majora Twilight Princess per carità bello eh bello però forse mezzo gradino sotto questi due che devono essere considerati come un gioco unico perché sono praticamente l'uno il continuo dell'altro quindi poi vabbè Breath of the Wild ragazzi non si manca discutere Breath of the Wild esce Breath of the Wild ha gettato dei canoni nel 2017 è il suo fratello maggiore Tears of Kingdom anzi minore perché è nato è nato fra è nato due giorni fa li sta gettando di nuovo quindi Breath of the Wild è da esser pure lui perché la saga di Zelda si era un po' arenata effettivamente Breath of the Wild è stato proprio il nuovo rilancio che sta tuttora continuando con Tears of Kingdom e Minish Cap Minish Cap è bellissimo il fatto di rimpicciolirsi il popolo dei mini cilignomini però Minish Cap non può essere paragonato minimamente secondo me non è da secondo me Minish Cap quindi lo mettiamo lo mettiamo su B anche se sarebbe un po' da Minish Cap perché è veramente figo gli enigmi dove devi rimpicciolirti non sono belli poi c'è il cappello parlante A A sarebbe da A non lo so ragazzi il problema che no no ci no il problema è che se lo metti in A lo vedete con che cazzo l'abbiamo messo con che cazzo l'abbiamo messo a paragone non è a livello di questi secondo me Minish Cap anche se comunque non è male sì lo so che è bellissimo però non quanto questi lo so lo so che è Minish Cap è Minish Cap con il cappello che ti insultava quando sbagliavi le cose però secondo me in B non sta ma non sfigura ragazzi non sfigura Tears of the Kingdom secondo me potrebbe essere tranquillamente un S ragazzi per ora poi bisognerà vedere bisognerà vedere quando lo finiamo perché è facile prendersi dall'entusiasmo mente calda le prime ore giocate sono belli quasi tutti i giochi vediamo come sarà fra un paio di mesi il nostro il nostro responso finale su Tears of Kingdom ovviamente quello che possiamo dirvi ve l'abbiamo detto che un gioco così non si è mai visto noi parlavamo di un gioco che esce ogni tott'anni no 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 questo qua è un gioco che non è mai uscito cioè non è mai uscito nella storia dell'industria così equilibrato così spaccettato parlo di dell'ultimo Zelda ovviamente e Breath of the Wild si avvicinava a questo concetto anche se Breath of the Wild era più una rivisitazione dei vecchi Zelda in chiave libera invece in Tears of Kingdom si sono liberati già la formula funzionava in Breath of the Wild qua hanno preso una formula che funzionava da capolavoro di Breath of the Wild e l'hanno potenziata all'energima potenza quindi di cosa stiamo parlando ragazzi vincono a mani basse il problema che mi fa incazzare è che se facessero una console in next gen al passo coi tempi come PS5 e Xbox Series X non li fermerebbe più nessuno però faccio solo quel cazzo che vogliono alla fine fanno anche bene perché i capolavori e le vendite le fanno lo stesso quindi che cazzo gliene frega a loro di fare una nuova console giustamente però figa ti mordi le mani ti mordi le mani quando dici puttana lama dosca sto gioco su un hardware al passo dei tempi che cazzo poteva essere cazzo poteva essere però teniamoci la Switch contentiamoci della Switch ragazzi purtroppo sapete che è così hanno già detto che se ne parlerà probabilmente nel 2024 per la nuova console e niente io lancio pistole distintivo tanto di cappello è ancora presto parlare di gioco dell'anno ma se non ce lo merita questo gioco io veramente non so che cazzo se lo possa meritare deve ancora uscire Final Fantasy deve ancora uscire Diablo deve ancora uscire Starfield anche se ci credo poco su Starfield purtroppo visto i brutti lanci che sta facendo la Microsoft e anche la Sony ultimamente perché anche Final Fantasy spero esca giocabile almeno al lancio vediamo ragazzi vediamo ha la potenza ha la potenza di un gioco del decennio secondo me non solo di gioco dell'anno però poi chi vince vince è comunque un premio e chi se ne frega cioè non preclude la qualità del gioco io più che altro vorrei vedervi vorrei vedere se hanno il coraggio di nominare Hogwarts Legacy come Goti perché se ne è parlato tanto se ne è parlato tanto e mi ricordo tre mesi fa che dicevo no no ma fidati i fan di Harry Potter sono fastidiosi vincerò Hogwarts Legacy assolutamente no assolutamente no perché un gioco un gioco del genere ragazzi è già storia è già diventato il gioco più il metascore più alto della storia di Earth of Kingdom ha già superato Breath of the Wild quindi secondo i voti è il gioco migliore della storia anche se non esisterà mai un gioco migliore della storia parliamoci chiaro gli assoluti non esistono negli intrattenimento in quella che può essere l'arte quindi aspettiamo dicembre per ora io vi saluto vado a farmi due orette con la Switch portatile un tipo 10 minuti in bagno che devo andare a cacare con Tears of Kingdom poi l'altra ora e mezza me la faccio nel letto vado un po' a farmi qualche sacrario in giro per i rule ci vediamo domani ragazzi domani c'è Bloodborne su YouTube la mattina lo screen di Zelda la mattina è l'Auror Night quindi giornata piena forse troppo piena proprio come Tears of Kingdom che ci sono talmente tante robe che non c'è tempo mai di far nulla e niente ci vediamo domani dai domani alla fine torna Sor Matilda probabilmente siamo arrivati alla donation goal quindi finalmente rivediamo Sor Matilda così smettete di chiedercelo su YouTube almeno per questa settimana poi ci vedrà grazie ragazzi per aver seguito questi omicidi incredibili con Hitman ci vediamo domenica prossima che magari lo riportiamo dai vado a salvare i rule e lo faccio per voi solo per voi grazie a tutti